Buongiorno ragazzi, questa è l'Italia di oggi, l'indifferenza più assoluta. A parte mi domando i parenti dove erano, ma uno zio di secondo grado che non lo sente da sei anni, non lo so. Però a parte questo, muore solo in casa e lo ritrovano sei anni dopo. I vicini, la cassetta di posta era sempre piena. Cioè i vicini, i vicini che dopo sei anni non si rendono conto che questa persona non l'hanno più vista, non si fanno la domanda, che vedano la cassetta piena e non fanno nessuna domanda. È un mondo veramente di egoismo, veramente non lo riconosco. Non so voi, ma a me questo mondo fa paura, fa paura.